Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, brevissimo video per mostrarvi l'ultimo rossetto MAC acquistato, Eroin, che sto indossando in questo momento. E' sicuramente un rossetto molto particolare, proposto da MAC ai primi del mese di aprile, ma già proposto in un'edizione limitata nel 2013 che si chiamava mi pare Fashion Set. In ogni caso un rossetto che sta andando tantissimo, tutte lo stanno cercando ed è quasi sempre sold out. Io stessa quando me lo hanno consigliato due amiche di YouTube che sono Linda, dell'Indalandia Troppo a Go Go e Jenny, il Simply Beauty Makeup, ho faticato a trovarlo perché sia negli store sia sul sito www.maccosmetics.it era sold out. Per cui non appena poi l'ho trovato disponibile sul sito, l'ho subito acquistato, era lunedì mattina, e l'ho ricevuto ieri, che era giovedì. In pratica in tre giorni lavorativi ho ricevuto il prodotto a casa. L'ho subito indossato, erano circa le 17 del pomeriggio, e l'ho tenuto su fino oltre le 22, cenando, proprio perché volevo testarne subito la durata, che quindi è eccellente. Sicuramente Eroin è un rossetto molto impegnativo, molto particolare, e dovete amare sia i rossetti forti che il colore viola. Però nonostante ciò è più facile da portare del previsto rispetto a come lo vedete nel tubetto. Il finish di Eroin è matt, ma nonostante questo è abbastanza cremoso e molto confortevole da portare. Adesso ve lo swatcho sul braccio e ve ne renderete conto. Perdonate, vi avevo già fatto altri tentativi in precedenza. Però vedete che scorre molto facilmente. Per cui avrete capito che sono già pazzamente innamorata di questo rossetto, e ringrazio ancora Linda e Jenny per avermelo consigliato. Per quanto riguarda tutti i rossetti MAC che io posseggo, vi ricordo che recentemente ho pubblicato il video della collezione completa, che adesso è salita a 16 elementi con Eroin. Vi lascio il link del video qua da qualche parte, nel caso non l'aveste ancora visto. Adesso ragazzi veniamo a noi perché voglio approfittare di questo video innanzitutto per salutare e ringraziare alcune ragazze che si sono e si stanno iscrivendo in questi giorni al mio canale. A me fa sempre un immenso piacere. E poi ovviamente voglio sempre ringraziare e salutare le ragazze già iscritte da più tempo e che continuano a seguirvi con tanto affetto commentando i miei video. Insomma è sempre una grande emozione leggere ciascun commento e cercare di rispondere a ciascuna di voi. E infine vi voglio augurare una serena Pasqua ormai alle porte, oggi in pratica il venerdì precedente alla Pasqua. Passatevela bene, state serene, divertitevi, riposatevi, anche perché questa settimana è subito successiva alla Pasqua. Ci saranno poi il 25 aprile, il primo maggio, per cui insomma un periodo nel quale godersela un po', riposarsi e fare quello che più ci piace. Per cui ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito, spero con lo swatch e il rossetto indossato di essere stata utile a quelle come me che comprano i rossetti make a scatola chiusa e magari stanno valutando anche loro di acquistare heroin. E se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video, ciao!